Ma che bella giornata di sole, quanta gente per le strade nuove, quanti treni alla stazione per tornare a casa. La chiamano liberazione questa giornata senza morti, questo profumo di limone dalle finestre aperte. In piena facoltà, egregio presidente, le scrivo la presente che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzar la gente, più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, si ha detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò. Ho avuto solo guai, da quando sono nato, e i figli che ho allevato, hanno pianto insieme a me. Mia mamma e mio papà, ormai sono sotto terra, e a loro della guerra non gliene fregherà. Quando ero in prigionia, qualcuno mi ha rubato, mia moglie e il mio passato, la mia migliore età. Domani mi alzerò, e chiuderò la porta, sulla stagione morta, e mi camminerò. Vivrò di carità, sulle strade di Spagna, di Francia e di Bretagna, e a tutti griderò. Di non partire più, e di non obbedire, per andare a morire, per non importa chi. Per cui se servirà, del sangue ad ogni costo, andate a dare il vostro, se vi divertirà. E dica pure ai suoi, se vengono a cercarmi, che possono spararmi. Di armi, non ne ho. Grazie a tutti. Grazie a tutti